C'è preoccupazione per la sicurezza nell'area dell'Alto Bradano, nella zona tradizionalmente poco condizionata dalla criminalità delle regioni di Mitrofe, crescono negli ultimi due anni rapine e distorsioni pur diminuendo il totale dei delitti. Da qui la decisione del prefetto di Potenza di convocare per la prima volta il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel Castello di Venosa. Il primo di una serie di tavoli itineranti che toccheranno tutto il territorio. L'obiettivo è quello di far sentire la vicinanza al territorio da parte delle istituzioni, parliamo di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, sicurezza integrata vuol dire appunto coinvolgimento direttamente del territorio dei sindaci. Dieci i sindaci presenti, da Lavello a Forenza a Palazzo San Gervasio, un problema quello dell'aumento dei delitti cosiddetti predatori che ha riguardato in particolare Genzano, ma qui l'emergenza di un paese diventa quella di tutta l'area. È normale che ciò che succede accanto al tuo vicino e quindi i nostri comuni Mitrofe sono talmente vicini l'uno all'altro, dobbiamo sentirci un'unica comunità, dobbiamo avvertirlo come un problema comune ed insieme dobbiamo affrontarlo. Rapine e distorsioni, ma non solo. I primi cittadini lanciano altri allarmi. Io vorrei in qualche modo segnalare un elemento che si va diffondendo e che registriamo come ormai abbastanza diragante, che è quello del fenomeno degli atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico. Il modello proposto dal prefetto passa dalla stipola di patti che vedano come disposto dai decreti del 2017 e del 2018 una nuova gestione integrata della sicurezza che oltre alle istituzioni e alle forze dell'ordine preveda intese con privati e amministratori locali.